Primo pallino per Giulio Bartesaghi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. 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 Realizza dieci punti locatelli. Grazie. 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 Tre punti per Bartesaghi. Sul ponteggio di tre a undici boccia Giulio Bartesaghi. Grazie. Grazie. Grande giocata di Giulio Bartesaghi. Otto punti. Grazie. 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 Spinge dei cinque punti locatelli. Parità quindici pari boccia locatelli. Grazie. 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 Lembraio Bartesaghi. Gol estàerts. Tre punti. Tre punti. Un montaggio. Tre punti. La punti in un montaggio di Warner remain. finale di terza parità 10 pari fra Salvi e Della Muzia cambionetto di palla e Della Muzia Viene stretto Bartesai, gioco la quarta prova. Un punto per Locatelli, 25 a 15 alla bacciata Paolo Locatelli. Esecuzione perfetta, 12 punti, 37 a 15. Esecuzione perfetta, 12 punti, 37 a 15. Grazie. 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 3 punti per Lopatelli, boccia sul punteggio di 40 a 16. 3 punti per Lopatelli, 15, boccia sul punteggio di 40 a 16. Ancora 10 ribocciata per andare a 50. 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 Una giocata ben eseguita da Giulio Bartesari. giuste le garambole segna 15 punti 31 bartesani 50 locatelli perde 3 attori e il pallino solo 2 punti 33 a 50 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 con questo il punto locatelli terza palla per giulio bartesani con questo il punto locatelli 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 almeno quando si tira grazie con questo il punto locatelli con questo il punto locatelli Grazie. 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 Quattro punti per Bartesari, 40-53. Grazie. 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 Cinquantotto locatelli, 40 Bartesari. Grazie. 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 Tre punti per Locatelli, boccia sul punteggio di 63 a 43. Grazie. 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 Ci conclude la finale di terza. Avevo già tirato, se no... della Muzia, della Muzia Pietro supera il veterano Salvi Egilio. Quindi la finale al più giovane. è un'altra parte di terza. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Quattro punti per Giulio Bartesaglia di Bocciata. Il punteggio aggiornato 55 a 73. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Punto per Bartesaglia. Due palle per Rocatelli. Tre punti a segnare. Quindi si boccia sul punteggio di 76 a 55. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ultima palla per Rocatelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 5 punti per Bartesaglia. 60 a 76. Alla boccia. Porta giù. Porta giù il gioco Giulio Bartesaglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rottura con 12 punti all'avversario. Porta giù. Quindi partita. Locatelli.